Ci sono ricordi che sono un po' di tutti, patrimonio nazionale direi, ad esempio il modo in cui hai seguito e commentato attraverso il telegiornale la guerra dei sei giorni del 1967. Questo era lo studio 11, in cima. Qualche piano sopra a questo. Qualche piano sopra, piccolo studio. Ecco, che ricordi di quella esperienza? Per molti indimenticabile. Ma fu un'esperienza importante perché allora il telegiornale, da allora c'era una sensazione di una redazione innovatrice, questa è la verità. Avevamo fatto per esempio degli esperimenti di un telegiornale nuovo a due voci che non andava mai in onda, con Zatterin, io e lui. E poi finalmente nacque questo telegiornale, diciamo così, dei giornalisti, ed era la prima volta che si faceva, e nacque soprattutto in occasione di grandi avvenimenti, come appunto la guerra dei sei giorni. Ed era il momento dei primi collegamenti. Antonello mi senti, questi che poi insomma diventarono piccole tappe di una piccola cronaca, di una piccola storia nostra. Che ricordi della sostanza di quei giorni in cui... Ma l'importante era la sensazione che si stava facendo della televisione in diretta, del giornalismo in una maniera quindi nuova, diversa, creativa. Perché non c'è dubbio che il giornalismo scritto ti offre certe cose, qui siamo circondati da immagini di giornali, sono un po' la mia vita il giornalismo scritto. Il giornalismo televisivo è l'altra metà, ma insomma forse io credo di essere un giornalista scrivente che ha fatto e fa tanta televisione. Però in quel momento lì, devo dire la verità, che l'entusiasmo dello scoprire la notizia fatta nel momento in cui tu la portavi al pubblico direttamente, con quella possibilità che nasceva allora dei collegamenti attraverso il mondo, era abbastanza inebriante. C'era anche qualcosa in più per te, ricordi dopo dieci secondi della tua autobiografia di essere ebreo? Beh sì, io poi ero legato, io avevo allora una particolare, diciamo che fu messa alla prova la mia identità di giornalista. Ecco io dicevo nella mia autobiografia, non so in che ordine vengono le varie mie qualità, ma credo di aver messo istintivamente al primo posto quella di giornalista. Credo di essere giornalista prima ancora di essere italiano o ebreo o modenese o europeo o occidentale.